Brrrr Ciao a tutti scimi pagliacci sono heptrappero oggi siamo in gruppo con ripp e si con rippero c'ho con chicco Che nel party ma non nella nostra stessa lobby siamo su brace una mappa che mi fa cagare però utilizzeremo 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 il KN tra l'altro ragazzi ho scoperto che quella roba li del fatto avendo chiamato i 3 nuclear non mi ha dato la medaglia Nuclear è un bug che è capitato anche a chicco che qua nel party con noi ciò può confermare anche se voi non Non lo sentite per colpa dei bug della playstation E effettivamente se siete su deathmatch La maggior parte dei nuclei che fate non ve li segna Io ne ho fatti i 3 non me li ha segnati Ne ho fatto anche uno su dominio Quello lì non me l'ha segnato Quindi credo che sia una roba generale dei bug Stiamo utilizzando la mimetica tiger Che mi sono fatto io sul mio KN Molto carina devo dire Adesso però non mi devo concentrare sulla mimetica Mi devo concentrare sui nemici Quindi vediamo di fare una bella partita E di fare come quella volta 44-3 su questa mappa Visto che comunque ce la possiamo fare come abbiamo visto Allora qui shottiamo il primo Giocherò molto conservativo oggi Poiché voglio appunto entrare in serie Però questo ci ha ucciso Rainbow magica Bene Magicar parco baleno ci ha ucciso Uno dei nomi migliori mai sentiti Ci conferma Kikko Ok qui vedo che i nemici tendono a sbucare sempre solo da qua Adesso non vorrei incontrare troppa gente Ma mi sa che uno arriva da qua insicuro E non è muore però Allora mi metto il menu war Meno war uno dei nostri sta facendo 2-0 Noi 3-2 Perché siamo troppo rusher Io devo giocare più conservativo Cosa che dico sempre ma non faccio mai Lì c'hanno seccato un nemico che voleva imprendere noi Ma non c'è problema Compagni i figli di loro madre Arriva un HCXD Non si capisce se è nemico, alleato Di John Cena o cosa Si sa solo che arriva un HCXD E vediamo un attimo Un arago is per terra Nessuno qua in zona? No E' bene Mi sento circondato da amici anche se non ci sono Là c'è un altro nemico Il problema è quello Mamma mia è sdraiato Questo si voleva mettere Andiamo un attimo ragazzi Qui ne arriva un altro sicuro Ovviamente ci shotta prima lui I nostri compagni che mangiano Probabilmente si mettono fermi Ok questa credo che sia la classica lobby Dove si fanno un po' decisioni Poi si muore Un po' decisioni Poi si muore Ma va bene L'importante è che non si va in negativo E non si va troppo in negativo L'importante è quello Andiamo un attimo Se adesso riusciamo ad entrare in una buona serie Comunque ecco i compagni che cominciano a camperare I nemici che cominciano a camperare Continua a capitare questa roba su Call of Duty Ovvero i nemici cominciano a far schifo Cominciano a perdere le bandiere Allora camperano Ma non ci si può fare niente ragazzi Call of Duty è sempre stato così E sempre così sarà E porca puttana Giuro che se adesso c'è un altro In quella fottuta casa di merda Vado lì Gli prendo l'ano della madre da dentro E glielo tiro fuori con la forza Hiko che è molto silenzioso Nonostante sia una persona che solitamente parla molto Ci si è messo il faro adesso Chi che è morto 15 di fila Dito una preghierina per lui Come noi che siamo morti 25 di fila Durante una live Ah no era 26 di fila ragazzi Scusate Quando guardate sono tutti qua sopra Infatti Devo dire che questo code è un po' buggato Forse è il code più buggato che ci sia mai stato all'inizio di un code Io non ho mai visto così E' bello che è uscita pure la beta di questo code Quindi comunque i bug li avrebbero dovuti patchare rispetto alla beta E' più buggato della beta ragazzi Posso confermarlo Adesso c'è il nemico qua sopra che si è messo a camperare Ma giustamente Tanto camperano tutti L'M81 che abbiamo raccolto da per terra Non spara Ha sparato una raffica Poi continuava a vremere Ma non sparava Quindi è un po' buggato A meno che sia raffica automatica Come il resto delle nuove armi su code Ma non credo Questo col shiva Uno c'ha lo shiva oro Mamma mia Deve essere abbastanza bravo per avere lo shiva oro Tanta stima per colui che c'ha lo shiva oro Shotta però lo shiva ragazzi Bisogna essere un po' conservativi Anzi molto conservativi Persona che io non sono su Call of Duty Anzi credo di essere una delle persone che rascia di più E che non può giocare con armi da quasi bassa cadenza Quindi per me lo shiva non sarà un'arma buona Anche se lo riconosco come arma è molto forte se lasciate Se giocate conservativo Io sono un tipo da mitragliette Anche se rascia mi comunica kick Ma adesso lo proverò La prossima partita lo provo Qui stavamo killando questo Che si chiama Alcatraz Knife Coltello di Alcatraz Ma non è morto Killcam da uno Da Thunderfox che utilizza l'Argus Contro quello che appunto avevo lo shiva Andiamo un po' 17-8 per adesso non male Potrei fare di meglio Visto che ho fatto 44-3 su Aquarium E vorrei di farlo Magari su un'altra mappa Ma adesso lo dai va bene L'importante è non andare in negativo E fare il ratio di 2 Oh oh Tra l'altro ragazzi Preparatevi perché quando finiremo con il Road to Commander Arriveranno oltre al Road to Quadvid Il Road to Nuclear Anche il Road to 5KD Ovvero in ogni partita riuscire a ottenere un ratio di 5 So che è una roba molto difficile Ma a quel punto ci sfrutteremo il camping Anche un po' di camping Non dico che campererò tutto il tempo Ma sfrutterò questa cosa Visto che comunque anche camperando Granate a cazzo che ci uccidono Visto che comunque anche camperando È una sfida molto molto difficile da fare Io comunque il massimo che farò sarà camperare Per meno di 3 secondi nello stesso punto Visto che non ci riesco veramente Ci ho già provato ma non ci riesco E quindi comunque proverò a fare quella sfida Basta Basta avere la gente che ti spona dietro Basta Oltre ad essere il code con l'inizio peggiore Questo è anche il code con le meccaniche Che funzionano peggio E gli spawn peggiori Perché io adesso sono appena fatto un doppio salto Su un muro piatto non saltava Guarda che Kiko sto giocando al dominio 17-12 ragazzi Siamo riusciti a morire meno di 4 volte Più di 4 volte Per colpa degli spawn E questo non muore Porco diaz K-N Rimettiamoci 17-13 Come rovinare le partite ragazzi Semplicemente abbiate i compagni che fanno cagare I nemici immortali E comunque si fa così Colpo fulminante guarda Adesso si andranno a puttane agli spawn Ecco infatti sono andati a puttane Perchè? Cosa fa lì che c'era il nostro compagno? Abbiamo perso B QAV in arrivo Un altro episodio bello del route commander Ce lo dicevano Questa mappa la gente campera più non posso Questo nuovo code mi piace Ma mi fa di un cagare allo stesso tempo Sto parlando con Kiko adesso Sì me lo devo tenere così Kiko ma sai che a me Advanced Warfare piaceva Quando è uscito Cioè mi piaceva tantissimo Cioè non era Non lo ritenevo neanche tanto buggato Nonostante il glitch delle mappe Mi piaceva Cioè comunque era divertente Era gestibile Gli spawn non erano una roba impossibile Cioè non erano una roba Che se la mandano su Discovery Channel C'è bisogno di Pierongela Per risolvere il mistero 22-14 C'è da che magari recuperiamo Il negativo di merda Cioè però non siamo in negativo Però Recuperiamo le morti fatte per adesso Ovviamente Guardian Ce lo posizionano davanti agli occhi E non muoiono I nemici che sono Quando siamo assoluti A fatti dei Guardian 24-15 Voglio fare 30-15 Almeno visto che La nostra sfida È avere il ratio di 2 Almeno a partita E uno si è messo dentro A B A camperare con il Guardian Ottimo Così che non lo sa H più nessuno Cioè in 3 sono Mi sono fatto una tripla Dentro B Questo è come gioca La gente su Call of Duty Bello No 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 Complimenti Ehm Nesta roba è tutta registrata Potete vederla poi Cioè riguardate Vista clip Guardate la gente Come gioca su Call of Duty Black Ops 3 Roba che Neanche su Mv3 Camperano così E Mv3 Considerato Call of Duty In cui la gente Campera di più Penso che abbiamo trovato Il rivale Sperando che ci abbia fatto Una quick Perché se no Beh ecco Sei pure mirata Complimenti Con l'Akog 31 17 Dai Neanche troppo male M8 A7 Questo lo voglio provare Quello era già ferito Ma Sembra che comunque Shotti L'M8 Beh ha sempre Shottato L'M8 Quindi Bene ragazzi 32 17 Non è in ratio Di 2 Ma non abbiamo neanche fatto male Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Vi auguro una buona giornata Una buona serata E ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti